eccoci qua raga allora tutto bene come va che si dice allora situazione situazione abbiamo i nostri eroi si lo so che mi trovo dalla parte che copro i personaggi però abbiamo vabbè lei guarda bellissimo livello 1 perchè abbiamo sbloccato finalmente il livello di potenza ve l'ho detto sono arrivato a livello 5 25 ma è il massimo quindi ora inizia a aumentare il conteggio poi abbiamo blade di livello 3 di amicizia e vi parlo di concetto amicizia capo d'america dobbiamo potenziarlo livello 3 dobbiamo sbloccare a lei in come si chiama con la cosa dell'amicizia così la livelliamo lui livello 4 lui livello 5 con un sale di livello lui e sta a 3 le sta a 1 5 5 4 quindi praticamente dobbiamo livellare 1 2 3 e ora sblocchiamo questo per la cronaca cosa che ce lo stavo dimenticando non abbiamo il messaggio di cosa ah no perchè l'abbiamo sbloccato eh si perchè sa per la prossima volta quindi dobbiamo fare questo eccolo qua così sblocchiamo e mettiamo qualche personaggio inizione questo per togliere il feosfizio va beh dove lo mettere ormai è andata 1 per nico perfetto scada tra cinque giorni scegliamo un personaggio randomico tanto siamo a posto giustamente vediamo qui giusto perchè ho abbastanza ecco qua ok allora non lo faremo la missione ancora ora andiamo qui ci serve oh bello questo tutto strange no scusa blade ottimo scegliamo blade e scegliamo un altro personaggio in questo caso vedete lei è al massimo qualcuno che sta per salire al 4 ah era lei infatti ho sbagliato no ho sbagliato no e saliamo faccio salire tutte e due direttamente lo riusiamo vediamo comunque salire a buon livello tanto comunque livello nostro io ormai sono a livello 26 però conta da 1 quindi farebbe fino al 25 quel giro e fa un altro colore secondo me livello massimo figo però come cosa è figo quindi vuol dire che migliori drasticamente i personaggi è interessante invece la magizia voglio capire come funziona perché sta a 5 per esempio come si chiama magic però ha superato il 5 quindi è diventato dorato quindi la mia domanda è ok è diventato dorato ma aumenta ancora non l'ho capito però è interessante ah dove abbattere lei che bel paesaggio che bella che bell'aria vabbè ok vediamo il da far il da far colpo rapido ok 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 mi ha tolto 99 di scudo si è provocata su di me levati grande voglio dire perché sta cosa perché abbiamo iron di me ora avete capito ok ma non mi conviene ok allora facciamo così si lo so che quello si moltiplica sdoppia però ok sto andato pensando ok aia porra vabbè alla fine fin dei conti tutti sono controlli mi sono tolto già alcuni non non saranno scoperte tutti chiede un pezzo di daywalker io ho fatto tu hai ragazzo questo vedo che non molto ha cambiato tra i fanatici mondiali eliminati fatto male andata andata questo sarà di grande aiuto e questi sono pericolosi oh perfetto cos'è? peli? ok ottimo allora poi cosa abbiamo qui ancora facciamo facciamolo proprio questo coso utilmente ok ho niente da fare perciamolo perciamolo bellissimo vabbè quello poteva anche spazzare ma state un po' scocciati tutti voi eh beh comunque se c'è la ghost rider pfff e la madonna che cosa ho appena visto che cosa ho appena visto che cosa ho appena visto cosa ho appena visto no no ragazzi no 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 toglielo proprio no no quello pura siete pazzi eh eh manco morto scusate strike lo so lo so eh lo so dai dai fai fuori la tua cara c'è moglie scusa madre due mamma mia cosa sto facendo no ah non hanno perduto l'interesse vabbè chissà andò buono è andata molto meglio del previsto e com'è bello sbloccare queste questi obiettivi che poi non so obiettivi sono conferme tra personaggi questa è una bella immagine ok allora vi ricordate che vi ho detto a livello Iron Man cercherò di potenziare cioè portare a livello 5 le amicizie dei personaggi e poi faremo la missione finale anzi vedo tutti a livello 5 e poi farò le sfide sperando di sbloccare le skin dedicate e ciao mi ha sorpreso che Hulk non ha il concetto di amicizia è un peccato però va bene allo stesso va bene allo stesso anzi adesso sto curioso se ci sono altre narrazioni nel frattempo eh perché tanto devo fare sempre solo una missione quindi non so neanche se ci sono 100 giorni di attesa di e cosa vale cuori vedete ci sono i cuori cioè io lo sapevo comunque hey Hunter boh in questo caso no Iron Man potrei farlo però potrei fare anche un Capitano America vediamo col stile Roger cosa possiamo fare giocare a carte dai ecco qui intanto è bellissimo che mentre sto registrando c'è la signora che passa prego eh 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 allora facciamo bevi un bel drink oh vediamo un po' c'è il galo che sta cantando intanto perfetto allora perché come tratto gli altri l'America non esiste nel tuo tempo con te mi devo essere Steve da Brooklyn solo un uomo con un'eserciza è qua lo sento purtroppo signora eh siamo tutti in questa guerra insieme perché non tratteremo un'esercizio e io ho appreciato spero che tu conosci tu hai la tua legenda e questa esperienza deve farvi un problema Scusatemi ragazzi, ho dovuto allontanare. Ma proprio era quella, da tua leggenda queste aspettative portano a problemi. Fammi vedere, queste aspettative portano a problemi. Sì, perché si aspetta molti da loro. Dai, scommetto che ha azzeccato. Bene. Scusatemi, non mi chiede una leggenda. Vabbè, riproviamoci. Ehm, grazie. Quindi, tanta roba. Io ho 8, 4 più 8. Andate. Qui, in teoria, se dobbiamo analizzare la situazione, abbiamo palesemente, sottolineo palesemente. Andiamo su eroi. Abbiamo lui, che lo dobbiamo avere il messaggio privato. Lei avrebbe il messaggio privato. Lui, ecco, vedete, già stiamo livellando. Dai, buono, buono. Va benissimo così. Intanto c'è una cosa da aprire qua. Perché ti ha scritto palette? Le palette. Potevo dire pittura. O colore, non so come definirli. Potevo chiamarli in tanti modi, in realtà. Ah, se mi ero allontanato è perché c'era la fatica che stava suonando. Prima lo spengo meglio, eh. Purtroppo è andato di fatto. Bello che faccio i video. Oddio, ma c'è Hulk. Ok. Almeno abbiamo visto Hulk. Allora. Parliamo con custode? No. Steve ti manda un messaggio privato. Ok, vedo che è contento per... E cosa varia? Allora, andiamo... Allora, abbiamo... Un punto esclamativo di Iron Man. Andiamo... Da Iron Man. Vediamo cosa mi dice. Ok. Fair trade, of course. Make sure you're writing this down. No big deal if they don't have fair trade. That is not the usual order. Everything okay? Sorry, Hunter. There's an apparition in my room. It keeps me up all night by rattling chains and making scary noises. Caretaker once called your room the Crypt of Demons. It is just a name. That room was a lot of things. But it was never a crypt. Well, I was going to say it's definitely Robbie pranking me. But thanks for the horrifying new thought. Okay, so my urgent issue. The reason I called you over here. You said, Hunter, I need help. It is urgent. Come here. Do not ask for a coffee. Can you please please get me a coffee? Oh, I didn't bore you with my worst story. Okay. Migliora me. Sfida. Ah, Spider-Man. Giusto. Un'altra ricerca. Tanta roba. Ancora? Vai via. Oh, when I was... Giusto. Abbiamo. Eh, però, sblocchiamo sempre cosa. Oh, no, no. What have you got for me, boss? Good. I needed something to do. Okay. Dobbiamo di fare tutte queste missioni. Vedo se invece blocchiamo cose in queste missioni. Okay. Allora, ci serve. Uno e due. Vedete perché vedi quante carte hai. Da sotto sta scritto comunque, quindi. Oh, Dio, quante carte. Ah, ho fatto l'acquisto. Da l'ultimo. Schianto sismico, bella. Trai schifo roba. Oh, vedi, il potenziale. Buono. A volte ci sono le stesse carte, però da notare che alcune carte non le caratteristiche. Che hanno sotto la tuta. Le latest advancements from the mind of genius Tony Stark. And they're all for you. Oh, però, vedete questo. Solo un secondo, ragazzi. Oh, vabbè. Carol vuole parlarti. Quali dei due ho troppi messaggi? Uno alla volta. Prima andiamo da te, Steve. Devo sbloccare il suo concetto di amicizia. E poi andiamo da Carol. Tanta roba. E' contento, dai. Ecco la mia cacera. E' come la sua? Il ritorno è lo stesso. Voi vecchi, anticipazione, e a volte, freddo. E' solo un figlio quando ho inserito l'Armio. Non ho pensato che i miei giorni avessi 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 avuto un po' di finalità. Qualche rimpianto? Per esempio, che sbloccare il loro oumuz. C'è un po' di finalità. Per dire che la guerra è il destino. Ci siamo due soldi che sono stati portati dalla linea di tempo, e riusciti all'interno. Perchè questo è quello che dovremmo fare, combattere una guerra fina. Non lo so, Steve. Credo che un giorno ci sarà un mondo senza guerra. Non credo che sto dicendo questo, ma tu è più ottimista di questo che io. Perchè, Steve, immagina un mondo che riuscita per la pazza. Puoi fare tutto quello che vuoi fare. C'è un'altra cosa per combattere, che non ha bisogno di usare le mangiare o la scuola. Come? Non lo so, probabilmente un'arico social justice non-profit, o qualcosa che riguarda il cambiamento di cambiamento climatico. Non lo so, non lo so, non lo so. non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Allora... Voi non lo notate, ma ve lo faccio notare io. Sì, abbiamo accettato. Però guardate qua, là ci sta Bucky, la foto di Bucky, il classico. Bello. Abbiamo sbloccato una sua passiva, un fatto da lodare. E adesso andiamo pure, perché ci do io pensiero, di Carol. Eccolo qui. No, ne capisci, ma ti sentiamo. Azzo, In piscina, ok Quando era la ultima volta che hai fatto un paese? Ho stato in scopo per alcuni buoni centri Un po' di verità Non è sicuro che avrei raccomandato come una vacanza Era un dormito scoperto pieno di vizioni di ghastosi Madonna, grazie Significa restante E ora il nostro 9 a 5 è stoppendo la tua mamma Un'verna Ok Ovvio Non posso dire Ovviamente Pure Grazie Sì però Incontri l'esmo ragazzi Decisamente incontri l'esmo Hunter Vestiti Vestiti Quella cosa Vestiti Allora Allora La ronna L'abbiamo sbloccato qui Oh guarda che mazzo Carta Che diavolo di festa Operazione riuscire Che diavolo di festa Bellissimo Spider-Man Cattivissimo Mamma mia Mi sta raccontando una cosa Deprimente Per favore no Assistenza voodoo Fuoco stregato Ne hai uno solo Vuol dire che è nuovo Boh non ho capito Miglioramento Grande Eccolo qui Abbiamo fatto anche questo Archivamento sbloccato Pienamento operativo Dovevamo Oh che figata Abbiamo sia questo Sia questo Abbiamo fatto tutto Ok Ora ci tocca fare una missione Madonna No 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 il difficile Non li potete fare I manufatti Mi servono Un'altra volta Blade Ok Ovviamente io Mi serve Blade Ok Dici di nuovo Iron Man Si faccia un Mico Mico Dai Facciamo Mico Mico Io ve l'ho detto Che mi basavo Di fare I livelli 5 Così si sblocco E siamo a cavallo Ora Intanto si scopo sempre Cosa è bello Sui personaggi Avete visto no? Anzi Ma vi dirò Pure di più Essendo che siamo Verso il finale Blade Mette in costume Da battaglia Nelle Nelle Dentro il Come si chiama La pazzia La pazzia Intanto sta a caricare Io arrivo subito Un momento Ok A questo punto Ok Ecco il punto Allora Vediamo un po' Ok Stavo vedendo una cosa Ok Tutto a posto Stavo andando una cosa Oggi si lavora Ragazzi Oggi è stamattina Si lavora Ecco che ho detto Faccio il video Però Ci sarebbero state Interruzioni Però considerate Che già è tardi Mattinata Io pomeriggio Da fare Quindi Assolutamente Mi conviene Fare adesso Qualche video Vabbè Ragazzi avete visto Chissà che cosa C'è stata la signora Pulta al volo È andata là Tira Cosfa È il lavoro mio Ragazzi Non posso alzare Neanche troppa la voce Perché adesso È tutto aperto Quindi posso dare fastidio Sotto agli ospiti Morto Morto Intanto mi muto Momentaneamente Che devo ascoltare Un messaggio Non posso Hydra Is already Experimenting With more Of those Charges Fals Created You need To put A stop To their Little Test I am Still The prize Just focus On destroying The charges Hydra Has enough Warm Bodies To overwhelm You Eventually With pleasure Hell That Scusate Che mi sono Atto Concentrato Senti Ah Non te lo Prende proprio Ok Ci speravo Un po' Ragazzi Buttiamo Here's one Here's one For ya Ever been Punched in the face By a god Today might be Your lucky day Stordito Stordito Solo un secondo ragazzi Scusatemi Scusatemi di nuovo Eh beh Aveva finita la signora Sono andati agli ospiti Per vedere se era tutto a posto Fine Allora Situazione Tragico Togliono di mezzo l'oro Mo finalmente posso parlare un po' più alta voce Assa fa Ok Ok No vabbè Non c'è più nulla da fare Abbiamo tolto lo scudo a quella Adesso siamo più liberi Ora possiamo distruggere Positivi Ok Doveva colpirlo da qualche parte No maledizia Ok Rinforzi Ok No maledizia No maledizia Ok 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 Ah questo Allora Allora Yeah that's still not gonna be enough That's one charge down But you're not out of the woods yet That will not distract me Ok 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 what's my future holds the light will heal you Ah, posso? Vai La mia preoccupazione è che prendi mira quella Guarda quello che esplode Seguo Fatemi vedere se c'è qualcosa che mi manca No, niente No, stavo vedendo Quello sta per esplodere e non fa male a nessuno Eh, quella è a due ormai Ok Ok Ha fatto un fuoricampo che è stata una tavola Ah, è un fuoricampo che è stato un luogo Ok, fermi tutti Già sono troppi Quello non ci voleva Non ci voleva neanche Ah pure con lo scudo oltretutto Ne so un po' più del previsto Questa cosa non va bene Ho sperato per una challenge Mi so un po' di metà sotto questo sott'oltre Per forza C'erano troppi Ok Non so questo in trovatorio Giusto per togliere uno dai piedi No Ho sperato No 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 Vigilanza ottenuta Ok Togliamo di mezzo lui No Ma questi non mi danno più punti Un 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 No eh S'ha preso troppo bello che Ok No c'è un problema Che questo disgraziato Metterà Protegge quello Già lo so Però mi sono tolto già Un bel po' di tizi Che attaccheranno a lei Ora tocca il loro turno Oblivion Oblivion Opens Her arms Their Persistence Is Irritating It is My Purpose This isn't a healthy way of expressing yourself La figura 104 di danno forza un po' troppo Dai che oma Vabbè Ci sono molto contenta da subire Vabbè Andiamo Ora vediamo Quelli hanno rotto però eh Siete troppi Siete troppi comunque Inizia C'è un problema Ovvio Lo sapevo Non avevo dubbi sulla protezione del cavolo Non avevo dubbi Ora vediamo la situazione Io ho sapevo che quelli la neri con l'atteschio Sono un serio problema Lo so sempre stati e rimarranno tali Non c'è nulla da fare Sì però per favore Caricati E per favore Abbiamo giocato così bene Ma arrivo io Con tutto il bene di sto mondo però Dai Dai due partite dovevo fare Non è che dovevo fare Tu c'è il problema Sì lo so che il mio futuro mantiene Il potere della light Siete fastidio Siete troppi mamma non contiene siete E' fuori, anche per Hydra. Mi ha perduto? Mamma mia quanto è ancora vivo quella a me? Tu devi morire. Quello mi ha stancato. Davvero. Lo so che si tocca, ma si sarebbe toccava comunque dopo. Quanto abbiamo di tempo che mi... Eh si, configgi la dama del terrore. D'accordo. D'accordo. Ok ho sbagliato io comunque Ora vediamo Oh basta questa corruzione Ovvio grazie Ovvio 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 Ho troppa corruzione raga Troppa Perché doppi attacchi Quanto cacchio sei forte Non eri così fastidiosa la volta scorsa Che è successo Bravo Eliminali Eh madonna come è niente Eh sono tutti Full vita questi Sono tutti controvinto Tu hai rotto il cacchio Tu hai rotto il cacchio Con tutto il bene di sto mondo Assafà Assafà Tutti corruzione Assafà Is that everyone Here it comes I fear no end Right back in it Vabbè Allora sei tutti stronzi con le carte Posso dire che sei tutti stronzi Dai grazie La damma che devo levarne di più presto possibile Mi sono stancato di questa Madonna Quanto cazzo Che dico la merda Oh Ancora dico E se ne va lei Ci sta Quindi la damma è unica Comunque Comunque Ecco ora ditemi voi Due di coraggio Pure ora E la cosa bella Non posso farlo perché Ecco se no avrei messo Avrei messo Avrei messo Il cacchio volentieri Oh basta Sta corruzione E' ovvio che Ma no 104 Quella Quella merda Ragazzi l'ho persa Doveva essere semplice L'ho persa Malissimo Ma sempre coppa di sternella Sempre coppa di sternella A me sta dando fastidio quello Ecco Che ho Perfetto E adesso che fama Un'inforza in arrivo Ovvio E no ma che cavolo Dai Sta diventando insopportabile Quello Non mi aiutano Non mi arrivano le carte buone Perché giustamente Il gioco mi odia Deve Quello va a romper cazzo Quello va a romper cazzo Scusate per la parola Ma tanto stiamo a perdere tutti Non so neanche come la vinceremo adesso Come cacchia la vinceremo Come la vinciamo Come cazzo la vinciamo adesso Eh maledizione un corno Ma che faccio con quello Eh anche se Guarda Sono tutti contro di me Tanti È vulnerabile Non so neanche Siccola la vinceremo Siccola la vinceremo Siccola la vinceremo Siccola la vinceremo E' ovviamente Ovviamente raga No Ho sbagliato il tasto Vabbè, cioè in senso Vabbè, 131 Ma che razzi corruzione è? Ma ucciso, sono morto Sono morto, ovvio Vedo dove che si cura sta merda Ok, pronto, poi E ho perso No, è perso una lista Non me l'aspettavo No, allora Quelle merde nere Sono il problema Quelle merde nere Sono il problema Io mi ho detto, vabbè Ma lo sconfiggo Non ho avuto la carta Che mi ha permesso Di farli fuori Ogni volta Si sono pure curati Oltre che si sono sdoppiati Era uno Era solo un nero Cazzo del cacchio Solo uno era No, niente Ma fregata la grande Non me l'aspettavo che mi fottesse così Non me l'aspettavo Raga, non me l'aspettavo Non me l'aspettavo che mi avesse fottuto in quel modo Solo lui Solo lui Perché avevo fatto fuori Perché avevo fatto fuori un sacco di nemici Accumulato tipologie diverse Ariata quella cacchia di buonanima Della donna Del terrore Figurati se mo pensavo che Che La vincessi Mi hanno fregato Mi hanno poi fregato E meno male che questa era facile Che difficoltà era? Normale o facile? Non manco lo ricordo Mi ha fregato Vabbè C'è pure da dire Che forse mi sono pure distratto Essendo che Avevo un atto da fare Può essere pure Perché non ho riflettuto molto bene Ecco cosa succede Quando poi non rifletti Su alcuni punti E Infatti non avevo ancora realizzato Poi ho capito dopo Che mi ha fregata la grande Ho sbagliato io Ho sbagliato io Devo sdoppiare quei due E far fuori tutti e due In un colpo solo Cioè In una sola run Devo far fuori quello nero Quello nero è il problema Non è lo scudo Il tizio con lo scudo Non ho Quel coso Quella merda Quello schifoso Che poi campa pure Cioè Anche se ho la carta bella forte Che lo campa ancora Non riesco mai a ucciderlo Con tutta la full vita Mai Ma sapete perché? Perché è una buona difesa quella merda Ha leggermente un pizzico di difesa Perché quello non ha tanta vita Ha sul 200 e passa di vita Io ho attacchi che arrivano sul 200-400 Oh mica lo ammazzo Cavolo No è quello schifo Che è il problema Non è Quello coltino oscuro Capì? Eh Mamma mia Le sa Guarda Guarda Mi fa incazzare queste cose No perché Poteva andare bene Poteva andare molto bene Mi ha stesso di nuovo quello nero Mi sono rifatto rifregare Da quel piccoletto Da quello schifo di me Mamma mia Perché quello Il problema Non è ucciderlo Cioè è solo uno Guarda dove sta Dove sta È qui davanti a me Questo schifo Lo devi fare fuori subito Questo schifo Sta qua Dai no fa male Mo sta Sta merda Si sdoppia No prima faccio fuori questo coso Perché è questo che mi ha causato il problema Questo Non è stato La gigantesca E tutto il resto Non mi interessa C'è il tuo tempo Per far fuori lui Non mi interessa proprio Hai un corno Lol Ecco Mo mi sono tolto sto schifo Mo mi sono tolto sto schifo E ora faccio una cosa pure bella Tu Puoi andare a menare quello lì per favore Intanto Mi sbloccionare Mi sbloccionare Il livello salito È tutto Volendo a me È tutto Sì Ok Non lo pilla Ma dai non lo pilla Questo lo pilla E' solo per fare questa cosa raga Mi tolgo lo scudo Capito? Non lo pilla 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 Ok Ok E' solo per farmi Non lo pilla E' solo per farmi Non lo pilla ok mi sono tolto già di buona parte della situazione vedete come era più semplice di quanto uno possa pensare quasi di togliere la merda il gioco è un altro discorso madonna che colpo dove è finito il coso? ragazzi dove è finito? vabbè lui è giusto che amasticoso madonna un cappotto non me l'ha aspettato il cappotto mi ha stordito un personaggio questo è il bel problema ok rinforza in arrivo aspetta se si può esplori tanto non mi interessa se mi dai la possibilità magari fa qualcosa è come come looks like the main event is over about time Lo schifo ti ha Dato da problemi Oh però Cavolo Tutti attacchi da tre caro Con tutto il bene di sto mondo Ecco grazie It sounds to me like They just missed their mama This is gonna hurt Give the mother my regards In hell I will not waste this opportunity Walk in the light What up he? I owe you blood I'll be that I'll be that Ok Ok Quello esplode Lascio lo esplode Ecco ora ci sono ristabilizzati un po' Perché veramente Era un casino E' un po' male a nessuno Colpisce lei Fa pure male Infatti mi fa scartare una carta Ecco ora però Questo è più gestito Prima era una cosa improponibile Aumentano i nemici Cioè aumenta il Facciamolo Solo perché Mi lo sta dicendo E' un po' ma l'ho qua cosa altra parte Ok Ah ok Questo serviva magari Nooo Non l'avevo capito Ho sprecato la cosa Ho sprecato perché In un turno potevo fare attacchi ignoranti Ok Un'altra volta Da un fastidio questa cosa Da molto fastidio Vabbè Non è rimasto Tutto con il progetto Ah che uomo è giusto? Ah pure mossa ottenuta Eh non era difficile semplicemente I nemici diventano più forti andando avanti Nella missione Oh madonna che brutta posa però eh Ecco qui era per rispondere a un messaggio di una... Tanto mo' è notte quindi ora vediamo chi sblocchiamo come missione La stanchezza raga Questo è BGP Peccato che ho perso nel primo tentativo Di sta missione che in realtà non era difficile Però si vede che i nemici stanno diventando più forti eh Avete visto quanta cacchia di vita stanno iniziando ad avere Più si cresce di livello più si aumenta la difficoltà dei nemici Non c'è niente da fare Sono più pericolosi Magari nelle campagne principali Nella missione principale magari sono un po' più limitati Perché dicono giustamente il tuo livello è quello Ma Ma Le sfide secondarie ti fanno male Ti fanno effettivamente male E vabbè Madonna mia gattina sta là È una palla di pelo nero Che a volte la vede e non la vede Questa appare dal nulla Perché i gatti Sono stealth Non sono delle spie Oh Caricati Ah niente Cosa Acquori Cavolo Proprio niente Va bene E allora Ritorniamoci C'è per caso qualcosa di aperto qui No Questo li devo controllare La mattina Che mi scordo sempre di controllare Vabbè Pazienza ragazzi Andiamo A dormire Yolo Bene La stacchiamo qui Questo video è duricchietto abbastanza Secondo me Quindi Lo interrompo qui Come missione Hulk è ancora che si allena Vabbè Hulk cosa può fare E Con noi io vi saluto Custode ovviamente Abbiamo la forgia Perché avevo sbloccato una cosa Dobbiamo andare Qui del 38 Al prossimo video Passo e chiudo Bene raga